Diciamo che da un po' di tempo che aspettavo un'altra chance, visto che negli ultimi due anni ne ho avute poche. Tornare vicino a casa in una città così bella, con questo entusiasmo, penso che per me sia il massimo. Poi per come è avvenuta agli ultimi minuti è stato proprio bello, emozionante. Poi ho saputo che comunque l'implogatore era già da un po' di tempo che parlava con il direttore di questa possibilità. Però diciamo probabilmente ha dato la priorità, in base ai suoi pensieri, ad altre cose. E invece è l'ultima ora, è uscita questa cosa, quindi è stata una corsa sia fisica, vanno detto, del direttore da un albergo all'altro, e sia per scrivere questo contratto. Per fortuna sono arrivati 5-6 minuti prima e niente, è andata bene. Sì, l'accordo è stato trovato mezz'ora prima e io ero stato chiamato 35 minuti prima. Ero già a Napoli, quindi mi allenavo il giorno dopo e niente, io ho parlato con il direttore, ho detto sì, subito. Non abbiamo neanche parlato di cifre, di niente, ho detto solo che volevo venire qua. Poi ci hanno pensato loro, ce l'hanno fatta. La mia condizione è quella di un giocatore che si allena da inizio del ritiro, con la squadra, che in più cerca anche, visto che ho molta voglia, di allenarsi anche finiti gli allenamenti, che però ha fatto solo un amichevole a Cesena e quindi probabilmente ha bisogno della partita vera, perché si sa bene che l'allenamento è sempre un conto per quanto ti possa andare forte, ma la partita poi quella di Serie A è un'altra cosa. Quindi probabilmente ho bisogno del ritmo, partita e spero di trovarlo presto e di servire soprattutto qui. Allora, di Verona, io sono di Conegliano, quindi sto qui a un'oretta e le sensazioni sono quelle... È strano dirlo, però diciamo che anni fa quando sono andato a Firenze e non conoscevo nulla della città e mi sono sentito subito a casa. È una questione di sensazione e sono rimasto lì sette anni e ho avuto grandissime soddisfazioni. È la stessa sensazione che ho avuto qui, in spogliatoio con i ragazzi, ragazzi bravissimi, giocatori con un grandissimo entusiasmo e mi sono sentito subito a casa sia al campo che in città, perché comunque sono tornato in Veneto, che è effettivamente casa mia, e poi perché è una città bella che ti fa star bene. Quindi spero che vivere le stesse sensazioni i primi giorni portino alla stessa cosa, vuol dire che starò qui sette anni e con grandi soddisfazioni, insomma, questa è la mia speranza. E nei meandri ci sono finito solo quest'ultimo mese, probabilmente perché eravamo in tanti, e per come lavora Mr. Benitez, lavora con i suoi undici e gli altri undici, quindi con 22, quindi mi sono trovato all'allenarmi con la squadra per tre quarti dell'allenamento e poi quando c'è la partitina, insomma, facevo altro. Quindi questi erano un po' i meandri, però prima io comunque ero integrato nella squadra, con Mazzari giocavo sempre, spesso me la giocavo anche per entrare la domenica, avevo fatto comunque 13 partite, quindi la sensazione mia era di essere assolutamente dentro il gruppo. Però comunque quello che dici te è giustissimo, perché non mi sono sentito mai protagonista, e prima di arrivare a Napoli avevo fatto più di 300 partite tra i professionisti, tra Coppa Europea e Serie A, e quindi insomma in due anni farne 13 non è il massimo. Tra l'altro colgo l'occasione di questo discorso per ringraziare Big On, il mio ex direttore, perché insomma penso che per merito suo sta ancora giocando a calcio, perché nella questione dell'infortunio, due anni fa senza il suo appoggio, penso che avevo grande possibilità di smettere, invece mi ha convinto a seguire una strada, diciamo, di terapie, di operarmi, e ha avuto ragione, quindi insomma sono qui a giocare per merito suo, e anche sono qui al Verona per merito suo, penso, e di Sogliano, che mi hanno dato un'altra chance, quindi ci tenevo a dire questo. Le mie caratteristiche sono quelle di, in generale diciamo, di far schermo davanti alla difesa, di dare ordine in generale ad una squadra, poi nella mia carriera ho giocato da centrocampista centrale a tre, da interno a tre, da centrocampista a due, un anno ho giocato anche da un unico centrocampista, perché avevamo quattro mezze punte, quindi, però diciamo mi piace stare in mezzo, perché insomma mi piace stare al centro del gioco, e probabilmente, ti ho ragione, mi piace far ripartire l'azione, non quello che va a prenderla in allungo, che abbiamo giocatori molto forti per questo, però probabilmente è quello che può fare quel primo passaggio, così. Però penso che il Verona abbia disputato, l'ho vista con la partita, una buonissima gara contro la Roma, e purtroppo ci sono in Serie A delle squadre che hanno dei giocatori che in ogni momento possono fare la differenza, perché se quel giorno lì non la fanno, te la puoi giocare comunque fino all'ultimo, ma se poi un colpo per dire quello di Pjanic può spostare l'equilibrio di una partita giocata magari alla pari. La prima cosa da ritrovare è che quello che ho trovato subito, in un minuto, che era entusiasmo, e come diceva il tuo collega prima, stare comunque un po' fuori non è facile, e diciamo che provi sempre a dare il massimo, però il massimo che credi te non è quello che puoi dare, e quindi con questo penso che non ho paura di niente, poi è logico che le cose verranno, probabilmente non ho i 90 minuti alla gattuso ora, ma magari ne ho 45, 60, poi spero di avere la possibilità di farli intanto, per poter farne poi 70 e così via. Ma io penso che si sia rinforzata molto, che abbia un mix perfetto di sia giovani che gente con esperienza e sia di caratteristiche, perché ci sono sudamericani che ci vogliono sempre una squadra perché danno magari il guizzo, ci sono giocatori più forti fisicamente, più esperti, come vediamo Luca, o come Caccia, che è un giocatore che fa gol anche solo in un secondo, quindi insomma penso che ci sono tutte le caratteristiche per far bene, però come avete detto prima, poi la differenza la fa il campo, e quindi penso che poi ho delle caratteristiche uniche, che insomma non sono così sicure in tutte le squadre, che c'è un gruppo unitissimo, che secondo me fa la differenza, alla lunga fa la differenza, è una grandissima voglia, insomma un Hellas Verona in Serie A dopo così tanti anni, uno stadio così, dei tifosi così, penso che alla lunga possa fare una buona differenza. Probabilmente voi siete qui da tanto, le date per scontate certe cose, però insomma per me c'è molto entusiasmo, insomma a vedere da fuori, anche da altre squadre, abbiamo sempre detto, l'Hellas c'è un tifo veramente molto, i tifosi molto passionali, uno stadio che si unisce, poi tra l'altro quando ero alla Fiorentina, ci parlavano anche, essendo gemellati, dell'Hellas dei tifosi, spesso sono venuti allo stadio con i tifosi, e sicuramente fa la differenza rispetto a chi non ha queste cose.